Un breve aggiornamento sulla notizia di apertura, il devastante terremoto che ha scosso la Turchia e la Siria. Vedete le immagini sempre in diretta con un bilancio di vittime che si aggiorna di momento in momento. Si parla di oltre 1500 morti, 780 solamente per quanto riguarda la zona siriana di questo terremoto che ha avuto tre scosse principali, la terza poco fa di magnitudo 6. Intanto tra gli aggiornamenti anche quello che riguarda l'aeroporto di Adana, uno dei principali centri colpiti da questo terremoto che ha avuto la scossa più forte di magnitudo 7.7, è stato riaperto l'aeroporto, rimane l'unico disponibile per raggiungere l'area colpita dal sisma alla luce del fatto che gli altri aeroporti sono al momento chiusi e pronti a raggiungere la Turchia. Per gli aiuti ci sono tanti paesi, tra cui l'Italia poco fa. Il ministro dell'interno Piantedosi ha detto che l'Italia è pronta a dare il suo aiuto con uomini in mezzi, con squadre specializzate dei vigili del fuoco per queste situazioni. Poco fa anche le parole di Cordoglio per la perdita di vite umane da parte del Papa. È tutto, grazie per averci seguito.